Ricordiamo una figura importante, quella di Antonio Maglio, le attività svolte per la riabilitazione. L'INAIL è parte importante di questo progetto che ha sostenuto, ha seguito e che adesso arriva a una giornata conclusiva di celebrazione dove il modello vincente è l'integrazione tra sport e riabilitazione nella considerazione della persona al centro delle nostre attenzioni.